Buongiorno, benvenuti a questo incontro di Biennale Tecnologia. Nel suo primo giorno dopo l'inaugurazione sono Juan Carlos de Martin, docente in questo Ateneo, nonché curatore insieme a Luca De Biase di Biennale Tecnologia. Sono qui in veste di dialogante con la nostra ospite che vi presenterò tra un istante su un tema che mi e ci sta molto a cuore, per questo che l'abbiamo scelto ovviamente. Il futuro è digitale, quale ruolo per l'Europa? È un tema che credo potrebbe occupare ben più dell'ora che abbiamo a disposizione. Il formato, penso che lo conosciate, ma ve lo ricordo, dialogheremo per circa 40-45 minuti e poi apriremo i microfoni grazie ai nostri bravissimi borsisti e al pubblico che volesse fare domande o commenti concisi, quindi sfruttare al meglio il fatto che siamo tornati in presenza e quindi è più facile interagire. Io sono un ingegnere informatico e quindi il tema di questo incontro è vicino anche alla mia specifica competenza professionale e sono anche un ingegnere informatico che da ormai quasi una ventina d'anni dialoga con informatici, giuristi, economisti e così via per provare a capire come mettere in campo le tecnologie digitali, che conseguenze socialiane, conseguenze economiche, che impatto sull'organizzazione e così via, quindi credo che effettivamente questa esperienza e questa competenza disciplinare possa essere di aiuto nel dialogo con la nostra ospite, a questo punto vi presento la dottoressa Paola Papanicolaou, Executive Director del Transformation Center del gruppo Intesa San Paolo, Intesa San Paolo lasciatemi ricordare uno dei main sponsor di Biennale Tecnologia e ha un contributo importante alla realizzazione di questa manifestazione, ma il nostro ospite è qui oggi nella veste di qualcuno che le cose che io studio e insegno deve concretamente metterle in atto in una grande impresa, una grande impresa multinazionale, quindi ha esperienze in molti paesi e che quindi porta a una prospettiva che io trovo straordinariamente interessante perché è concreta, che si confronta con la concretezza delle vari tipi di ostacoli, di sfide che vanno superati per realizzare questa trasformazione digitale, questo futuro digitale di cui tutti parlano e parliamo. Quindi da questo punto di vista ci siamo messi d'accordo in una conversazione precedente per iniziare come dire avere un dieci minuti in cui presentiamo alcune cose che ci stanno particolarmente a cuore relative al tema del nostro dialogo e poi magari procedere in maniera più come dire più conversazionale e aprire poi dopo come vi dicevo alla fine il dialogo anche con voi. Quindi a questo punto darei il microfono alla nostra ospite appunto per questa sua prima esposizione e grazie di essere qui. Grazie, grazie mille a voi e buongiorno a tutti. Il tema come hai anticipato è un tema molto caldo, molto interessante, molto importante sia a livello paese che direi anche a livello di un operatore come siamo noi del paese, no? In qualche modo. Perché questo e quali sono gli ambiti che mi sentirei un po' di toccare? Beh, innanzitutto cosa deve fare la transizione digitale, no? La transizione digitale in primo luogo deve essere, dirò delle cose magari ovvie, però sono fondamentali e poi in parte secondo me rispondono ai limiti e alle opportunità che abbiamo come paese e come continente. La prima cosa è che deve funzionare per tutti, dunque noi parliamo di transizione digitale, deve essere qualcosa che deve essere utile in qualche modo a tutti e deve, lasciatemi dire, banalmente migliorare la vita quotidiana delle persone, l'interazione delle persone con le imprese o diciamo tra di loro. Dunque persona al centro, ma in qualche modo deve anche generare delle nuove opportunità per le imprese le quali oggi sono chiamate per appunto partecipare o compiere questa transazione digitale, sono chiamate degli investimenti rilevanti. Investimenti rilevanti che non solo hanno bisogno di fondi, ma hanno anche bisogno di grandi competenze. Competenze che non sempre si trovano esattamente lì dove servono nel momento in cui servono. Dunque in qualche modo ho già anticipato alcuni dei temi. Tutto questo, permettetemi di dire, è farcito dal fatto che la tecnologia deve anche servire, questo è un tema caldissimo del momento, a combattere i cambiamenti climatici e la transizione verde. Dunque anche questo è da aggiungere e da sommare. Qual è il contesto che noi abbiamo in Europa? Il contesto è fondamentale. Il contesto europeo è fatto di tanti paesi, se vogliamo confrontarci con chi oggi guida in qualche modo, comunque ha guidato negli ultimi anni in maniera rilevante la transizione digitale, che sono magari un punto di riferimento e chiaramente sono stati gli Stati Uniti. Sono gli Stati Uniti anche per il fatto che maggior parte delle aziende di tecnologia, che oggi sono anche i nostri fornitori, se noi lo vediamo come azienda, chiaramente si trovano negli Stati Uniti. Sono in un contesto diverso, offrono una tipologia di servizi, hanno accesso a determinate infrastrutture tendenzialmente diverse e dunque noi, a casa nostra, nel nostro contesto, ripeto, italiano ed europeo, ci sono delle situazioni di fatto nelle quali ci troviamo oggi che comunque dobbiamo tenere in considerazione. Quali sono queste? Innanzitutto le normative. L'Europa ha un contesto normativo molto diverso dal contesto americano. Se posso esprimere un'opinione anche migliore, secondo me, e dunque c'è, ad esempio, ci sono dei principi, prendo l'esempio della GDPR, che sono dei principi importanti ed ha a che fare anche con la nostra cultura. Quando però arriviamo all'informatica è evidente e siamo in un mondo globale, la differenza normativa, mi soffermo a questo esempio ma ne potrei fare altri, è un'opportunità, è un vincolo, ecco, ci sono dei temi da affrontare. La seconda, sempre restando, se volete, anche in questa differenza normativa rispetto a un altro continente, c'è anche la differenza o l'interpretazione diversa di una normativa tra un paese e un altro. Dunque noi abbiamo questa seconda complessità in qualche modo da affrontare. Dunque, quando noi, ad esempio, nel settore bancario, che è uno dei settori più regolamentati, dobbiamo implementare una soluzione in Italia, non è detto che l'interpretazione puntuale di una norma in Italia sia esattamente identica a tutti gli altri paesi. Dunque, vediamo che devo portare, diciamo, declinare una soluzione tecnologica ma ho già il secondo vincolo che è la specificità paese. Poi possiamo parlare della transizione digitale e vederla anche, sempre in contesto europeo, in maniera molto diversa da un settore a un altro, perché anche qui vedremo che ci sono diversi stati di avanzamento. Cosa ha fatto la pandemia? Quali settori ha fatto transitare di più? Tutti siamo transitati di più verso il digitale e siamo stati costretti. Ma vediamo e osserviamo già quest'anno un po' un ritorno. Dunque ci sono delle abitudini di digitale che le persone hanno acquisito e hanno mantenuto. Ci sono altre abitudini digitali che magari, forse anche giusto, così abbiamo smarrito. Dunque questa è una seconda categoria. E poi c'è anche come si approcciano le diverse geografie e anche, lasciatemi dire, le diverse età alla transizione digitale. Dunque anche questo è un contesto differente. Se io penso al settore bancario negli Stati Uniti verso il settore bancario in Europa e in Italia sono molto diversi. Comunque la relazione, e qua c'è anche una questione culturale, la relazione è fondamentale. Gestire determinate cose solo in maniera totalmente digitale, totalmente da remoto e in maniera spersonalizzata, forse è un po' eccessivo. Allora bisogna capire qual è il giusto mix che rispecchia i bisogni, la cultura e diciamo l'evoluzione che noi vogliamo avere. Ho messo un po' troppi temi forse sul tavolo. Assolutamente temi, come anticipavo all'inizio, molto importanti perché è una realtà che si confronta concretamente appunto in diversi paesi e con una prospettiva globale con i temi della rivoluzione digitale e della trasformazione digitale. Provo a aggiungere qualche elemento dal mio punto di vista. Chi mi conosce lo sa da parecchi anni ci chiediamo il ruolo dell'Italia relativamente alla rivoluzione digitale. Abbiamo tanti indicatori che ci collocano in posizioni spesso non, come dire, verso la coda dei paesi OXO, dei paesi dell'Unione Europea. Ci si è interrogati del perché di questo ritardo italiano. Dopodiché però l'attenzione in questi ultimi anni si è spostata a livello europeo perché è vero che nel contesto italiano l'Italia ha dei problemi suoi specifici che tra l'altro sono legati a sue debolezze strutturali a monte. Penso soprattutto per esempio al ritardo educativo. È chiaro che se c'è un ritardo educativo generalizzato e tra l'altro storico, è chiaro che questo ha anche delle conseguenze sulla competenza e sulle conoscenze digitali. Però si sta mettendo più a fuoco, direi, in questi ultimi due o tre anni il fatto che c'è un ritardo europeo specifico, quindi che riguarda anche i paesi più avanzati all'interno dell'Europa e quindi l'attenzione si è spostata su ma perché un continente con grandissime competenze scientifiche, università che producono laureati, dottori di ricerca che sono sicuramente bravi quanto quelli americani, anche numericamente e complessivamente è confrontabile, un continente oggettivamente ricco, quindi con disponibilità economiche. Com'è possibile che un continente come quello europeo sia così manifestamente indietro rispetto agli Stati Uniti? Cosa intendo per manifestamente indietro? Intendo che, e lo accennava anche la nostra ospite, il fatto che se guardiamo alle più importanti aziende per capitalizzazione di borsa, le prime venti per esempio, adesso lo scenario sta cambiando rapidamente, ma ancora fino a pochi mesi fa era sicuramente quello che vi sto per dire, cioè se guardiamo le prime venti grandi aziende, ce n'è una europea, che è un gruppo del lusso di Louis Vuitton, tutte le altre sono in grande parte americane, Arabia Saudita, Cina, Corea, e tra le grandissime sono tutte digitali, quindi non c'è nessuna grandissima azienda, con questo parametro che non è l'unico che va preso in considerazione, è comunque un parametro comunemente utilizzato, non c'è solo una europea e nessuna tra quelle digitali. Quindi quella che chiamiamo trasformazione digitale, rivoluzione digitale, viene messa in campo sempre più da un gruppo relativamente ristretto di grandissime aziende che hanno competenze tecniche di punta, che hanno grandissime risorse economiche, e che sempre di più, anche nella letteratura e nell'escussione delle scienze politiche, avevamo Mario Ricciardi in questa stessa sala, il direttore della rivista Il Mulino, prima di questo incontro, si chiedono, ma queste aziende sono paragonabili a stati, hanno delle caratteristiche inedite che nessuna grande impresa ha mai avuto in precedenza, che hanno alcuni aspetti paragonabili ai tradizionali stati vesfagliani. E quindi da questo punto di vista la riflessione è, ma come mai? Ma perché? Cosa è successo in questi? Era ancora un po' mimetizzato fino a 15 anni fa e è diventato clamorosamente evidente in questi ultimi dieci anni. Allora, la risposta a questa domanda, chiaramente non ho la risposta, ho delle possibili abbozzi di risposta che dovrebbero servire, uniti a tanti altri molto più bravi di me, a cercare di capire che cosa non ha funzionato per provare a fare quello che diciamo nella presentazione di questo incontro, cioè ritagliare per l'Europa un ruolo di maggior spicco, di maggiore indipendenza, ma non perché l'indipendenza sia fine a se stessa, ma perché il digitale si può plasmare in tanti modi e ovviamente se sono grandi aziende di un certo paese che lo plasmano, lo plasmano con quel tipo, se parlavamo di cultura, di quel tipo di cultura, con quel tipo di obiettivi di quella specifica nazione che non necessariamente sono gli stessi dell'Europa nel suo insieme e poi specificamente dell'Italia, della Francia, della Germania e così via. Allora, anche per questioni di tempo vi accendo soltanto a un punto che mi sta particolarmente a cuore, anche perché è legato a benare tecnologia, a questo specifico incontro. Io credo, ci sono tanti motivi, ma uno dei motivi che fanno sì che gli Stati Uniti siano così chiaramente, come dire, i primi attori, non gli unici ma i primi, è il fatto che hanno dedicato fin dall'inizio, quindi quando i primi calcolatori elettronici emettevano i primi vagiti, quindi prendiamo del fine 45, inizio 46, hanno dedicato attenzione e risorse a pensare alle implicazioni di queste macchine. Cioè hanno capito, con un pensiero strategico che caratterizza gli Stati Uniti, hanno capito molto in fretta che avere macchine che facevano i calcoli in fretta non erano semplicemente le macchine d'ufficio come quelle precedenti, meccanografiche, erano macchine che manipolavano simboli in fretta. E la differenza tra fare calcoli in fretta e interpretarli come manipolare simboli in fretta, i simboli possono essere voce umana, testo, immagini, come adesso diamo per scontato, il fatto che loro sono 75 anni che dicono ma che implicazioni ha questo per la finanza, che implicazioni ha questo ovviamente per la difesa, per l'amministrazione, per la salute, per l'istruzione, per tutti i vari campi di attività umana. Questo secondo me gli ha dato un vantaggio, è difficile da quantificare, che non sono miliardi di dollari o numeri di PhD, però un vantaggio cognitivo molto importante che ha fatto sì che determinate iniziative oggettivamente, come dire, ambiziose, ordinare tutta l'informazione del mondo, fare una mappa di tutte le strade del mondo, cioè cosa che se probabilmente un italiano avesse proposto qui a qualcuno probabilmente avrebbero guardato dicendo una cosa stai dicendo, invece in quel contesto lì dove si rifletteva anche un livello di estruzione elevato, appunto, cosa vuol dire organizzare tutta l'informazione del mondo, c'era un terreno fertile. E terreno fertile vuol dire che poi trovi qualcuno che ti aiuta, che ti incoraggia, che ti finanzia, con cui fai collaborazioni, eccetera. Quindi credo e ovviamente chi mi conosce sto un po' inevitabilmente parlando delle cose che mi stanno a cuore, però credo che ragionare insieme a livello anche culturale, quindi non soltanto strettamente scientifico o strettamente manageriale o imprenditoriale, ma a livello culturale, di che cosa vogliono dire queste macchine, questi algoritmi, queste tecniche che sono in costante evoluzione e per cui abbiamo sempre cose su cui riflettere. Adesso stiamo tutti molto riflettendo sulla cosiddetta intelligenza artificiale, appunto. Le implicazioni riflettere in questo modo con vari punti di vista e varie discipline. Qua in questo incontro avete due punti di vista, ma in biennale ne trovate decine d'altri. Credo che possa aiutarci a, se non rimediare, quantomeno a attenuare questo handicap che secondo me ha caratterizzato l'Europa in questi decenni, handicap che potremmo tradurre in ma sia un altro settore come tutti gli altri, cioè l'ICT e quel settore lì, così come ci sono l'energia, così come ci sono tutti gli altri settori, non c'è un particolare bisogno di una riflessione invece più ampia sull'implicazione. Questo è forse la cosa che mi sta più a cuore, che vorrei portare a questo dibattito e quindi sono molto contento anche che una grande azienda come il gruppo Intesa San Paolo accetti un confronto, tra l'altro non è il primo che abbiamo già avuto su questi temi, su questo modo di intendere la trasformazione digitale. Non so se risuona in qualche modo con i tuoi pensieri. Assolutamente sì, mi ritrovo moltissimo e provo a mettere degli altri elementi sul tavolo di riflessione. Hai accennato su dove ci troviamo nell'evoluzione anche digitale in Italia. Dobbiamo anche dirci che siamo partiti da una condizione, esiste un indice DESI, che è l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società, e l'Italia fino al 2020 credo si trovava al 24esimo, 25esimo posto su 28, adesso 27 paesi. Io ieri sono andata a guardare la posizione e devo dire che ho scoperto con sorpresa che siamo andati al 18esimo posto, dunque siamo saliti abbastanza di posizione. Questo sicuramente è stato anche a causa della pandemia, perché in ogni caso si è stati anche un po' costretti a utilizzare certe tecnologie. Questo è un limite? Sì, lo è, perché parto dal punto di vista di come abbiamo agito noi anche come azienda nel settore della tecnologia e della digitalizzazione e quali sono i vincoli che poi altre aziende possono incontrare lungo la strada. Se vado indietro nel tempo, noi abbiamo cominciato ad investire in lo sviluppo dell'app bancaria in un momento di mercato nel quale onestamente l'utilizzo del telefonino per consultare e operare con la propria banca era molto desueto. Pochi utenti di fatto si sentivano, ma se volete anche per una questione di comodità, comunque è uno schermo più piccolo e così via. Uno preferisce operare da casa propria, eccetera. Non sto parlando di secoli addietro, ma sto parlando di qualche anno fa. Il nostro gruppo ha deciso di investire in maniera importante perché ha intravisto comunque una linea di particolare adozione del cellulare nell'interazione con il web e con i servizi e ha cominciato ad investire in anticipo per poi arrivare oggi ad essere uno dei principali operatori. Siamo stati anche riconosciuti dal mercato con piacere come l'app migliore a livello europeo. Perché dico questo? Perché permettetemi di parlare di Intesa San Paolo, ma non lo faccio per farci pubblicità, ma solo per dire che investire in anticipo per un'azienda, quando ancora l'investimento che fai non ha un ritorno economico, ma è un investimento facendo una scommessa sul futuro, non ha un ritorno economico o, peggio, in qualche caso agisci in un contesto nel quale la consuetudine, la normativa, la regolamentazione non è ancora consolidata. È una sfida che bisogna avere anche una certa dimensione per poterla affrontare, perché implica, ripeto, non monetizzare l'investimento o comunque rischiare di dover modificare l'investimento nel tempo. O comunque investire ulteriormente per cercare di, come dire, convincere gli utenti ad utilizzare quel tipo di tecnologia e così via. In questo specifico contesto il nostro investimento è stato anticipatorio di un trend che effettivamente si è manifestato e dunque non era solo rendere un'app fruibile, poi parlerò anche di UX perché è un altro tema ancora che secondo me nell'adozione della digitalizzazione è ancora un po' un limite probabilmente anche per l'Europa. Ma quello che voglio dire è che comunque in certi casi fare questa anticipazione non è facile, non è facile perché i contesti e le dimensioni delle imprese sono diverse. E dunque questo si potrebbe riportare in generale negli investimenti nelle ricerche, anche fuori dal mondo imprenditoriale, ma parlando un po' di altri modi. Però intanto tornando alle buone notizie perché mi piace essere sempre positiva, adesso noi ci troviamo di fronte a una situazione secondo me abbastanza unica e distintiva perché esiste il piano di recovery e riprese resiliente, il famoso PNRR, che mette a disposizione 127 miliardi di euro nel settore della digitalizzazione. Poi vedremo le evoluzioni, come saranno, come si configurerà esattamente, però diciamo c'è una spinta in questo momento, quantomeno finanziaria, per sostenere gli investimenti nel digitale. Purtroppo non sempre siamo stati in grado di sfruttare appieno questi momenti, per mille ragioni, però ecco che abbiamo nuovamente una possibilità, una finestra per cercare di recuperare terreno. Torno indietro sul perché le prime aziende, diciamo, per capitalizzazione digitali non sono europee nuovamente. Allora, anche qui innanzitutto noi siamo meno, questa è la verità. Cioè noi abbiamo, quando sviluppa una azienda europea, oggi per lo più parte ancora, fino a qualche anno fa è partita con una cultura di sviluppare per un paese, perché, scusate io sarò un po' ripetitiva sulla normativa, però un po' questo condiziona. Perché tu, prendo l'esempio della banca, del sistema bancario. Allora, una banca europea può operare a livello europeo? Sì, certamente. La regolamentazione europea è unica? Sì, è vero. Ma di fatto, se poi vado a vedere, diciamo, la declinazione puntuale di quella norma in un paese può essere vagamente diversa. Allora, voi sapete molto meglio di me che la tecnologia si può customizzare? Sì. Si possono fare n viste, come dire, lasciatemi banalizzare, della stessa cosa. Tutto questo però ha un costo. Quante sono le aziende che hanno una dimensione tale da potersi permettere di, come dire, adeguarsi alle specifiche normative, prima europee, poi internazionali, per poter essere compliant a, adesso io parlo del settore bancario che è altamente regolamentato, ma ripeto, la stessa cosa si applica in tanti casi. Allora, se noi andiamo a vedere quali sono quelle aziende che hanno questa scala molto grande, e se pensiamo a quelle aziende che sono cresciute anche rapidamente, vedrete che in certi casi si muovono anche in degli ambiti un po' indefiniti, dove leggiamo periodicamente sul giornale che la tale azienda non è compliant con quella regolamentazione, la tale azienda ha pagato delle sanzioni rilevanti perché non si è adeguata a questo e a quest'altro. Dunque, diciamo che c'è anche un'accettazione del rischio da parte di determinati tipi di imprese un po' superiore a quello che invece, e questo nuovamente si torna alla cultura, no? Io credo che in Europa ci sia sempre una attenzione, lasciatemi dire, superiore a quello che, diciamo, sono i diritti delle persone, il rispetto della norma, eccetera. Dunque, è culturale però, non so se è giusto o è sbagliato, no? Perché alla fine per fare il cambiamento bisogna introdurre, diciamo, delle, non vorrei chiamarle forzature, però la famosa innovazione, cioè la scala e la trasformazione viene dal fatto che un giorno qualcuno ha pensato che una cosa si potesse fare in maniera un po' diversa, no? Da come si è sempre fatto. Dunque, una sommatoria di fattori. rispondere chiaramente alla tua domanda è estremamente difficile, dunque non ho la velleità di portare delle risposte, forse delle nuove domande, perché a volte, forse facendosi delle nuove domande, possiamo cominciare a guardare le cose da qualche altra prospettiva. Sì, senz'altro, grazie molte, qualche reazione al volo delle cose che dicevi. Allora, sullo smartphone effettivamente avete visto bene e avete fatto bene a fare questo investimento. Recento ho tirato fuori un po' di dati, effettivamente è abbastanza strabiliante. In questo momento l'84% dell'umanità ha uno smartphone. Se aggiungiamo anche l'umanità che usa ancora i telefoni cellulari tradizionali, arriviamo a più del 90%. Questo è capitato nel giro di, nel senso, sei anni fa, eravamo ancora soltanto a metà dell'umanità. Quindi in giro di sei anni si è passato da circa metà all'84%, che vuol dire miliardi, vuol dire miliardi di persone che hanno acquisito questo dispositivo. E questo dispositivo ha progressivamente aumentato la quantità di tempo al quale le persone interagiscono con questo dispositivo, perché siamo arrivati ormai a un valore medio, che quindi, come tutte le medie, ha tutti i difetti, però comunque indicativo, ha un valore medio di interazione con lo smartphone di 3 ore e 15 minuti, di questo, di questi 84% dell'umanità, di cui circa tre quarti del tempo sui social media. Allora stiamo cominciando ad avere dei numeri che storicamente, novecentiscamente, ma ancora adesso, sono quelli della televisione. La televisione è la grande ladra di tempo, come ha definito qualcuno tanti decenni fa, perché appunto in media toglieva e toglie ancora ore dalla vita di veglia delle persone. Quindi lo smartphone, effettivamente, è un fenomeno straordinariamente veloce e straordinariamente diffuso in tutto il mondo, anche se non universale, perché anche in paesi ricchi c'è comunque chi non se lo può permettere, chi è intimidito, non sa sentire di usarlo, non si fida, eccetera, eccetera. Altra reazione sui 127 miliardi del PNRR per la digitalizzazione, come hanno osservato subito alcuni economisti, proprio perché è uno scenario così a forte presenza statunitense, rischiano anche di essere un problema per la bilancia dei pagamenti, perché si vanno a comprare servizi e dispositivi fuori, perché i campioni italiani e europei sono molto di meno. Quindi questo è un dato che è stato messo in evidenza, anche per la velocità con cui vanno spesi i soldi, quindi non è che possiamo cominciare a rafforzare dei campioni europei per intercettare questo flusso molto ingente di denaro. E infine sulla cultura, sì, effettivamente, io sono un informatico, una delle fondatrici dell'informatica, una donna. Gli americani hanno visto molte donne in ruolo di primenienza all'origine della disciplina e a differenza dell'Europa. Una di queste, ormai diventata famosissima, ci ha fatto persino una vita a fumetti sopra, Grace Hopper, che ha praticamente creato l'infrastruttura informatica della Marina Americana, che potete immaginare che cosa sia, perché è una delle più grandi organizzazioni del mondo, la Marina Americana, e è diventata un ammiraglio della Marina Americana, e Grace Hopper si attribuisce a lei la frase di dire è molto più facile chiedere scusa che non chiedere permesso. Cioè, falle le cose, e poi dopo, ormai le hai fatte, hanno funzionato, e trovi un modo di tranquillizzare chi si è indispettito. E poi ovviamente la famosissima frase è quella di muoversi veloce a rompere le cose, che anche, come sappiamo a questo punto, comincia a diventare particolarmente evidenti, anche degli aspetti, come dire, negativi e controproducenti, che però, nella fase almeno iniziale di affermazione, senza guardare troppo, come dire, per il sottile, permette l'affermazione di grosse realtà. La sensibilità europea, anche per ottimi motivi, come diceva la nostra ospita, è diversa. Quello che potrebbe essere, come vi dicevo all'inizio, diverso, senza necessariamente, come dire, avvenire meno al nostro rispetto, alla nostra attenzione per i diritti, è appunto quello dell'attenzione, alla riflessione un pochino più listica, un pochino più trasversale, un pochino tra diverse discipline, per provare a capire le implicazioni di questi dispositivi. Quindi queste sono un po' le reazioni a caldo che mi sono venuti in mente sentienti parlare. Forse, se me lo consente, aggiungerei a questo punto l'aspetto della formazione. Siamo in un politecnico, io stesso sono un ingegnere informatico, abbiamo i nostri amici dell'università che producono informatici. L'Italia è un paese che comunque ha avuto un ruolo anche storico non trascurabile nell'informatica, oltre all'esperienza leggendaria dell'Olivetti, comunque ha avuto, ed ha ricercatori di primissimo livello, di livello internazionale. Forniamo laureati apprezzati non solo dalle nostre imprese, ma apprezzati in tutto il mondo, perché trovate informatici italiani che lavorano per Google, per Facebook, che lavorano per moltissime aziende, anche in giro per l'Europa. Allora, da questo punto di vista, il ruolo della formazione, lo dico appunto mettendomi il cappello di professore del Politecnico, è anche provare di inserire nei nostri programmi, e lo stiamo facendo, inserire nei nostri programmi di ingegneria informatica, un po' di attenzione ai temi che stiamo discutendo adesso. Quindi i temi di attenzione alle organizzazioni, soprattutto con i colleghi di ingegneria gestionale, e più generale di attenzione, e questo me ne occupo proprio direttamente, io con i miei collaboratori, per esempio, attenzione al fatto che gli algoritmi possono essere tipicamente, involontariamente discriminatori, possono creare dei danni anche ingenti alle persone, perché non sono stati progettati da ingegneri informatici, con la consapevolezza che questo può effettivamente capitare, e anche relativamente facile che capiti. Quindi stiamo facendo un piccolo sforzo Politecnico, e non solo, anche in altre università italiane, per creare degli ingegneri con una maggiore sensibilità, una maggiore apertura mentale, e attenzione alle implicazioni del proprio lavoro. Non so voi che i nostri ingegneri li assumete, come li trovate, cosa pensate che potrebbe essere fatto eventualmente di diverso? No, grazie, grazie della domanda. Tra l'altro, il nostro gruppo ha da poco, diciamo, quest'anno annunciato il nuovo piano d'impresa, un piano d'impresa che focalizza in maniera molto importante ancora la sviluppo della tecnologia, sempre mettendo al centro la persona, perché comunque noi offriamo servizi, e dunque la persona è centrale, anche per la ragione culturale che dicevo prima, ma la tecnologia è al centro. Tanto al centro che in un contesto comunque, diciamo, non necessariamente di grande crescita, diciamo, nel settore bancario, noi comunque stiamo procedendo con l'assunzione di 4.000 persone nel mondo del digitale, 2.000 in particolare nel mondo proprio del tech puro. Dunque è evidente che noi ci crediamo, ed è evidente che abbiamo grande apprezzamento dei colleghi che studiano negli Atenei italiani. Cosa si può fare di più? Allora, è difficile dire cosa si può fare di più. Io posso provare a dire quello che noi cerchiamo nello skill set di un giovane che si approccia oggi al mondo del lavoro. Chiaramente, sa passando a dire che la competenza è una delle prime cose, è evidente. Dunque, essere competenti dell'argomento che si è studiato è fondamentale. Ma questo, secondo me, le università italiane, in generale le università europee, sono veramente molto bravi a dare una competenza, una formazione rotonda e profonda. La seconda cosa, quando andiamo invece nelle skill, nelle famose soft skills, è il fatto di essere curiosi. Se io dico quali sono le sfide che abbiamo, prima ho portato l'esempio dell'evoluzione dell'app, ma potrei portarvi altri esempi. Adesso parlerò di qualcosa che è un pochino forse specifico di settore, ma me lo consentirete solo per dare un esempio. Una delle grandi sfide che hanno le banche, le banche negli ultimi anni cosa hanno fatto? Hanno modernizzato in maniera rilevante i loro front-end. Cosa sono i front-end? Sono quei canali di interazione con il pubblico. Possono essere i dipendenti, possono essere i clienti. Dunque, vedrete che questa cosa per lo più l'hanno fatto tutte le imprese che hanno cominciato un percorso di digitalizzazione, pure in un settore, perché se immaginate il settore bancario è un settore comunque sempre altamente digitalizzato per certi versi. Dunque, lì si è investito tutti per creare cosa? Creare applicazioni facilmente fruibili, creare delle interfacce che siano intuitive, ecco, soprattutto, perché con chi ci confrontiamo noi oggi? Noi non ci confrontiamo con le banche, noi ci confrontiamo con Amazon, noi ci confrontiamo con Facebook, perché l'esperienza che un utente cerca è un pochino quell'esperienza immediata di facilità di acquisto. C'è alcuna cosa, voglio trovarla velocemente, devo capire velocemente se questa cosa che sto cercando è fits the purpose, come dicono gli americani, cioè va bene per me. E capite che questo, in un prodotto, è abbastanza semplice, in un servizio, è un filo più complesso. E dunque questa è stata il primo, la prima, diciamo, nuova evoluzione del digitale che le banche hanno dovuto compiere, ma ripeto, vale per tutti. Dunque, la curiosità è qui, è importante, no? La curiosità è il fatto di pensare, sì, avendo le mie competenze tecnologiche sottostanti, ma anche pensando in qualche modo da utente, no? A quale bisogno devo rispondere? E questo vuol dire anche creare un percorso, perché abbiamo detto, perché siamo indietro nella digitalizzazione? C'è il tasso di adozione. C'è il tasso di adozione. Allora, avere la giusta velocità, noi dobbiamo sviluppare soluzioni digitali, velocemente, per essere pronti a cogliere nuove sfide, anche perché, come sappiamo, il cambiamento, quando arriva, arriva, cioè inarrestabile. A volte ci impieghiamo dieci anni per arrivare a un punto e poi improvvisamente c'è un'esplosione tutta insieme. E lì bisogna farsi trovare pronti. Però bisogna anche creare quei percorsi, diciamo, che facciano arrivare il cliente, l'utente pronto a questo. Che sfida stiamo adesso, per arrivare un po' a tutto questo, per arrivare al commento anche dell'intelligenza artificiale e della gestione del dato, che è un'altra cosa estremamente interessante, no? Adesso siamo nella fase in cui stiamo rivedendo tutti i sistemi, chiamiamoli di back-end, i famosi legacy, il core banking, eccetera. Allora, qui prendo l'esempio delle banche italiane versus banche, diciamo, statunitensi, no? E poi vi dirò che secondo me noi abbiamo fatto tanti confronti con tante banche americane e vi posso dire che secondo me la tecnologia in Europa è anche superiore, mi permetto di dire. È anche superiore. In certi casi è diversa, però è anche superiore. Vediamo da dove partiamo. Noi partiamo da un contesto nel quale le banche si sono create per fusioni e acquisizioni. Dunque, i sistemi informatici delle banche sono un insieme di sistemi uniti, no? E dunque questa è la situazione di partenza. Porto l'esempio delle banche, ma sono quasi certa che una situazione simile si trova anche in altri contesti. Perché se io devo pensare, ad esempio, al settore che è completamente diverso, ma se volete ha delle affinità medicali e penso a tutte le informazioni che si trovano nel settore ospedaliero e come queste vengono unite, messe insieme e così via i sistemi, li conosco molto poco, ma io sono ragionevolmente convinta che ci siano grandissime similitudini. Adesso dunque c'è da lavorare nella parte di back-end, la quale deve diventare più rispondente a quello che è l'esigenza in qualche modo del front-end. Dunque, pensate al fatto del 24-7. Noi abbiamo lavorato per anni in sistemi che avevano un'apertura e una chiusura, che era l'apertura e la chiusura dello sportello. Oggi, qual è l'aspettativa? Che 24-7 io possa accedere dalla mia app o dal mio internet banking e avere una situazione aggiornata che risponde in maniera immediata a un bisogno. Beh, c'è una trasformazione dietro che è abnorme. Questo per arrivare a dire cosa? Che la competenza è fondamentale, la curiosità, invece delle soft skills, è essenziale, la capacità di visione e di farsi delle domande. Perché dico la curiosità? Perché bisogna farsi delle domande che non si è mai fatti. Per cercare... Il futuro è difficile da prevedere. Ma certe attività non accadono in un secondo. Il cambiamento richiede tempo, ma poi quando viene, viene tutto insieme. Allora ci vuole una linea di evoluzione che in qualche modo la si pensi, ci sia una traiettoria e periodicamente la si riaggiusti. perché non sono cose che si fanno in una notte. Dunque, il soft skill della grande curiosità, della capacità di visione, della capacità di farsi domande, della capacità di essere intuitivi e soprattutto di porsi nella parte di chi sia di fronte e di chi a cosa deve servire quello che sto facendo, è fondamentale. Un ultimo accenno alla parte dell'AI e dell'etica. E torniamo di nuovo alla differenza tra Europa e Stati Uniti. Si sta, come sapete, la Commissione Europea sta lavorando e ci sono già una serie di papers di come rendere l'intelligenza artificiale. Per noi è importante utilizzare l'intelligenza artificiale? Certo che sì. Ma nella nostra cultura la vogliamo utilizzare nel miglior modo possibile? Certo che sì. Cioè, anzi, questo è il secondo, certo che sì, è più importante del primo. Perché prendiamo l'esempio del credito bancario, no, allora, noi dobbiamo riuscire a creare algoritmi di intelligenza artificiale che siano capaci di analizzare il credito, la concessione del credito a una persona in maniera unbiased. Non è facilissimo fare questo. Non è facilissimo fare questo, anche perché in certi casi le statistiche possono essere fuorvianti. Dunque ci sono una serie di elementi che vanno messi insieme per poter, come dire, spingere l'evoluzione. Sì, grazie molte. Due rapide reazioni a quello che hai detto e poi a questo punto anche grazie ai nostri bravissimi borsisti che gireranno con un microfono diamo la parola al nostro pubblico. La primissima cosa è che quando parli di interfaccia utente, effettivamente tra gli informatici, almeno tra alcuni informatici, in questi ultimi anni si è fatta un po' di autocritica, nel senso che forse se non avremmo potuto essere più sensibili e anche più sensibili nel formare i nostri studenti al fatto che il processo di digitalizzazione di un processo, per esempio un processo amministrativo, burocratico, eccetera, che chiaramente per tutta una serie di motivi passarlo al digitale ha dei vantaggi, ma se non viene curata molto attentamente il come viene fatto questa trasformazione, può essere talmente controproducente da provocare il rigetto, a dire ma allora era meglio quando lo facevo sulla carta e noi per i performamenti non siamo molto, ci preoccupiamo ma quali database usano, quali interfaccia, così via, non abbastanza spesso, non con abbastanza intensità ci poniamo il problema di intervenire e far presente che se l'utente non trova un chiaro miglioramento nella sua vita, non nella vita del back office, nella vita sua, rischia la non adozione o una adozione ritardata o addirittura nei casi estremi il rigetto potrei fare tanti esempi ma penso che tutti voi ne conoscete quando c'è stato magari un processo di digitalizzazione di fronte a un'interfaccia come dire kafkiana dire ma era forse meglio quando facevo tutto con la carta. La seconda osservazione invece più generale appunto sulla formazione sugli studenti, hai parlato di curiosità, capacità di visione, di mettersi nei panni gli utenti, eccetera, è assolutamente vero ed è quello che in questi anni stiamo provando a fare con Guido Saracco, con molti colleghi, con molti corsi, lasciatemi ricordare uno che tra l'altro è presentato, i risultati sono presentati anche qua a Biennale, tutti gli studenti in ingegneria dall'anno scorso devono fare un insegnamento che ha un nome complessivo chiamato grandi sfide, le grandi sfide sono l'energia, la mobilità, il digitale, appunto, la salute, il clima e la caratteristica di questo corso che quindi prendono 3600 studenti è che all'inizio hanno delle lezioni che seguono tutti online, c'è Jeffrey Sachs che parla di sostenibilità, poi c'è Telmo Pievani che era ieri sera all'OGR che parla dell'importanza del dialogo tra i saperi anche, non solo perché divertente e interessante, ma perché è utile a risolvere problemi concreti anche tecnologici e poi, però, la cosa decisiva è che tutto il resto del corso è coinsegnato alla pari da un ingegnere e da uno scienziato umano o sociale che raccontano un certo specifico argomento dai loro rispettivi punti di vista e poi i ragazzi devono fare un progetto di gruppo dove devono necessariamente nel progetto di gruppo avere la componente tecnica e la componente non so, sociologica, filosofica, antropologica a seconda dell'umanista o del scienziato sociale presente con l'obiettivo di insinuare almeno in un corso magari poi ne prenderanno anche altri analoghi insinuare l'importanza del dialogo tra saperi ma biennale direi che è un tentativo forte di andare in quella direzione ma anche perché per suscitare la curiosità per accendere un po' di più la curiosità la capacità di guardare le cose lateralmente di chiedersi appunto delle domande che magari approcciando un qualcosa dal punto di vista strettamente tecnico uno non si porrebbe sapere che là fuori ci sono discipline che magari per il proprio percorso non si sono mai seguiti l'antropologia mica si fa al liceo se fai il politecnico tendenzialmente non fai antropologia però magari l'antropologo che è venuto insegnarti questo corso ti lascia qualche semino per dire ma forse adesso capisco perché Microsoft assume antropologi capisco perché perché tra una delle cose che fanno antropologi da sempre è lo studio della cosiddetta cultura materiale cioè come una certa civiltà si relaziona con i suoi oggetti e questo è un oggetto e ci sono antropologi che studiano come interagiamo con questo oggetto altamente sofisticato quindi volevo fare queste due rapidissime reazioni e se non hai nulla da aggiungere direi forse potremmo aprire il dialogo con il nostro pubblico chi vuole fare un domanda concisa un commento conciso alzi la mano e il nostro borsista vi porterà il microfono ecco il professor De Martin ha iniziato il discorso praticamente con la constatazione del fatto che in Europa siamo molto indietro rispetto all'America sintetizzando e ha affermato che è difficile rispondere al perché spiegare il perché a me sembra che in effetti questa è una domanda del professor De Martin però collegata a quello che ha detto la dottoressa Papa Nicolau che in effetti il punto è che mentre in America fin dall'inizio la politica è stata a fianco delle grandi multinazionali o anche degli start-upper con l'obiettivo preciso di controllare il mondo e questo è affermato anche chiaramente nelle opere di alcuni guru dell'informatica tipo Eric Schmidt ne cito solo uno o del mondo politico come il senatore Brummer che ha detto che con il CIP Act noi metteremo fuori mercato tutto il mondo allora in Europa c'è stato l'atteggiamento completamente contrario cioè di reprimere Olivetti c'è stato l'atteggiamento di quando è venuto Scanapieco per esempio della Bay a Torino gli ho chiesto ma perché non fate un web europeo con i soldi della Bay e mi dice perché queste cose le deve fare il mercato ora il mercato lo vediamo benissimo in mano di chi è come pure la questione del DGPR che sono bellissime leggi che non vengono attuate perché i soggetti passivi di queste leggi sono in un altro paese quindi la vera risposta non sarebbe questa cioè lo Stato europeo deve creare un'accademia europea di informatica in cui forma degli informatici con la sua cultura e deve creare un'agenzia europea delle altre tecnologie che come l'ARPA finanzi pesantemente l'industria informatica europea e deve creare un sistema di finanziamenti e di sponsorizzazioni tali per cui i nostri campioni europei possano fermarsi nel campo dell'informatica grazie per la sua osservazione e anche per le sue proposte quando dicevo che non è facile intendevo dire che se vogliamo rendere giustizia di 75 anni di storia quello che verrebbe fuori è quantomeno un libro dove dentro ci sarebbero interventi o omissioni di stati aspetti economici finanziari culturali insomma tante cose un aspetto che non ho citato e che non ho citato neanche lei è che ho il netto sospetto che una parte dell'elite europea non abbia capito il digitale e quindi semplicemente l'abbia sottovalutato gli esempi sono tantissimi ma ancora fino a anni relativamente recenti ma si è la ST chi se ne importa facciamo le nostre Mercedes o le borse Louis Vuitton appunto che vanno benissimo per carità ma che non hanno intuito che poi nella fabbrica della Mercedes sarebbe arrivata Google se non ci fosse stata una informatica europea quindi la storia è complessa in questo senso e meriterebbe di essere scritta e non è stata ancora scritta che lo sappia in questo senso ci sono degli aspetti verticali e parziali raccontarla tutta sarebbe molto molto interessante e riguardo ai Stati Uniti si potrebbero dire moltissime cose per esempio anche soltanto vedere approfondire lo studio specifico dei semiconduttori e quindi i grandi attori gli interventi le crisi e così via uno si rende conto certamente del ruolo dello Stato e non solo dello Stato ma si rende conto anche della complessità degli alti e bassi che hanno subito che stanno subendo pensiamo a un'azienda come Intel che sembrava assolutamente onnipotente e assolutamente all'avanguardia in questo momento non è all'avanguardia è un po' indietro per certi aspetti rispetto ad altre aziende quindi solo in questo senso lo intendevo ed è un tema che mi ha passione quindi spero in futuro di poter dare qualche contributo in proposito allora prego abbiamo ancora un po' di tempo non so se tu vuole aggiungere qualcosa allora lì c'è una mano alzata allora io sono una studentessa del Politecnico e studio Ingegneria Informatica quindi è ovvio che anche partecipando a questo incontro studiando quello che faccio ho una passione e una visione anche di questi argomenti ma come ha osservato la nostra ospite tra le prime sue considerazioni è che il fine ultimo dovrebbe essere della tecnologia e dell'informatica in particolare migliorare la vita delle persone e mettere le persone a cui noi offriamo i nostri servizi al centro allo stesso tempo però avete parlato di una enorme inconsapevolezza che c'è della tecnologia e mi chiedevo dal vostro punto di vista che sicuramente è più completo e guidato dall'esperienza secondo voi cosa può fare effettivamente ciascuno di noi che è all'interno dello studio di queste materie per aprire anche a tutte quelle persone in un certo senso anche rassicurare perché mi rendo conto che l'ignoranza genera anche paura in certe circostanze quindi voi cosa consigliate a ciascuno di noi di poter fare per effettivamente rendere anche una realtà il ruolo dell'Europa nel futuro perché sono fermamente convinta comunque che non possa esserci un ribaltamento della prospettiva a livello internazionale se non c'è a partire dai singoli individui grazie una domanda molto interessante e mi fa commentare una cosa che non ho commentato prima la sicurezza e dunque il fatto che la tecnologia possa spaventare ho raccontato che la tecnologia deve essere fruibile facile intuitiva eccetera c'è un secondo aspetto però fondamentale che deve essere anche molto sicura e per essere sicura la si deve saper usare abbiamo visto che nell'ultimo periodo per mille ragioni insieme all'incremento dell'adozione delle soluzioni tecnologiche la crisi diciamo che comunque c'è stata nell'ultimo periodo scatenata da n ragioni sono aumentati enormemente gli attacchi gli attacchi informatici attacchi informatici che molto spesso fanno uso di tecnologie estremamente sofisticate però lasciatemi anche dire che molto spesso purtroppo si poggiano sulla debolezza umana e dunque sulla parziale conoscenza diciamo di utilizzo di uno strumento oppure diciamo sul fatto di banalmente cedere le proprie credenziali questo in genera cosa nell'utente che utilizza la tecnologia poi inevitabilmente paura perché è ovvio perché io faccio una transazione questa transazione o sbaglio qualcosa o comunque mi genera una perdita di qualche tipo è evidente che la mia volontà di adozione di quella soluzione tecnologica svanisce immediatamente dunque cosa possiamo fare due cose una è sicuramente la formazione cioè l'adozione di soluzioni tecnologiche non avviene in maniera spontanea noi dobbiamo investire moltissimo nella formazione lo dobbiamo fare a livello aziendale il nostro gruppo cerca di farlo sempre di più se voi vedete ne facciamo tantissima comunicazione su come evitare le frodi cerchiamo periodicamente quando troviamo un nuovo modello di sottrazione delle informazioni cerchiamo velocemente di informare i nostri clienti di non cedere a determinate telefonate sospette link mail con link un po' tutte queste cose diciamo che oimè oggi accadono molto e dunque il secondo aspetto insieme alla formazione è insieme al fatto di creare interfacce soluzioni che siano effettivamente utili facile intuitiva cioè il fatto di creare un ambiente sicuro per chi utilizza quella tecnologia come farlo ripeto la formazione è chiave sicuramente anche il fatto di diciamo generare interfacce sempre più intuitive fa sì che uno sbagli meno si diceva prima dicevamo anche prima se io devo passare dall'utilizzo di una procedura su carta controllata con il collega di filiale che mi guida eccetera mi sento molto al sicuro perché sto entrando anche in uno spazio fisico diciamo molto sicuro voi guardate adesso si sta un po' tornando indietro ma fino a qualche anno fa diciamo accedere a una filiale era molto quasi difficoltoso osò dire adesso questo livello di sicurezza cominciamo a spostarlo dalle filiali dai luoghi fisici no perché con la diminuzione un po' dell'utilizzo del contatto e così via lo dobbiamo spostare in maniera importante in tutto quello che sono i sistemi informativi dunque secondo me questo è un secondo elemento ripeto molto rilevante e sul fatto comunque di creare consapevolezza cultura diffusione eccetera poi mi rendo conto che non c'è una risposta unica facile semplice però sono una secondo me sono una serie di elementi che vanno messi insieme e che possono supportare lo sviluppo se posso aggiungere se posso aggiungere anche io qualcosa sono un docente di questo ateneo quindi grazie molto per l'attenzione e le domande che ha posto anche qua non c'è una soluzione come dire semplice ma è giusto che sia così provo a articolare una possibile risposta allora per tradizione nelle scuole tecniche tutte quante ma in particolare del sud Europa dell'est Europa c'è la tendenza a formare tecnici pensando che sia un'attività neutra tu impari a fare una certa cosa impari la procedura puoi andare a applicare questa procedura tutto il resto non ti interessa e forse in alcuni casi non ti deve interessare allora a questo approccio molto appunto verticale e tecnico si può affiancare un approccio che è esistito nel corso della storia degli alti e bassi storici legati anche alle condizioni come dire sociali culturali di un certo certo tempo cioè di vedere invece il tecnico diciamo l'ingegnere visto che siamo in una scuola di ingegneria l'ingegnere come innanzitutto un professionista un professionista la parola professionista la parola professione al di là degli aspetti giuridici scritto all'albero ma il professionista si porta dietro e dovremmo esserne tutti consapevoli anche tutti i nostri studenti si porta dietro un bagaglio di responsabilità civile ed etica quindi il professionista è qualcuno che ha una competenza tecnica avvocato medico ingegnere e così via ma quella competenza tecnica deve essere coniugata con una consapevolezza del proprio ruolo nella società e dei propri aspetti aspetti etici della propria attività questo è un primo punto come dire d'aggancio che spero possa esserle utile perché non è molto messo in evidenza nel nostro percorso formativo ma dovrebbe esserlo messo di più la seconda invece è ancora più ampia è di dire sono un cittadino oltre che uno studente che in futuro è un ingegnere sono un cittadino e come cittadino durante il mio percorso universitario rimanendo vicino ai miei temi quindi in questo caso l'ingegnere informatica posso ampliare lo sguardo e lo ampliare lo sguardo lo può fare appunto partecipando all'incontro come quello di oggi la ringrazio di essere qui ma può farlo anche in altri modi lo può farlo con le nostre biblioteche lo può fare con i centri che sono presenti qua al Politecnico su questi temi il centro NEXA su internet e società è qua da ormai 16 anni quindi dedicare un po' del proprio tempo lo so che il tempo di studenti è sempre molto prezioso e siete giustamente molto attenti a utilizzarlo ma dedicare una quota del proprio tempo a tornare a sfogliare libri che magari sono proprio esattamente quello che state cercando ma provare a sfogliarne libri che non conoscevate e partecipare a incontri se ne organizzano tanti nel Politecnico ovviamente ancora di più in città quindi fare un po' un piccolo investimento di tempo in cose non strettamente immediatamente utili che hanno un immediato ritorno ma che possono servire appunto a coltivare questa vostra sensibilità più ampia sensibilità che oltre a essere appunto auspicabile dal punto di vista culturale civile eccetera credo ce l'abbia detto la nostra ospite prima torna poi anche utile quindi anche un investimento di tempo che poi ripaga nel medio e lungo periodo perché la vostra visione è un po' più ampia scoprirete che poi magari lavorando in un'organizzazione pubblica o privata scoprirete che vi può tornare utile perché fate dei collegamenti che altri non fanno avete una sensibilità che altri non hanno a questo punto sono le 12.59 per cui a meno che non ci sia un impellente irresistibile desiderio di fare una domanda vi ringrazierei molto di aver partecipato ringrazierei la nostra ospite di essere intervenuta a Biennale Tecnologia e arrivederci ai prossimi incontri grazie 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 grazie